Siamo in Via Padre Romualdo Formato, a Spinaceto, dove oggi pomeriggio intorno alle 15 un bambino è precipitato dalla finestra. Il palazzo è questo, alla mia stalla, è caduto dal quinto piano. Il bambino di 4 anni e mezzo era con il padre in casa, il papà non si è accorto di nulla. Probabilmente voleva prendere il pupazzetto di Babbo Natale che era stato appeso dai genitori fuori dalla finestra, aspettando appunto la testa, ma cercando di prendere il pupazzetto è caduto giù. La madre in quel momento non era in casa, era andata a prendere l'altra bambina di 10 anni a scuola e quando è tornata ha trovato il bambino a terra, coperto da un lenzuolo. Il padre è stato avvisato da alcuni ragazzetti, dai bambini che giocavano proprio sotto il palazzo qui davanti e hanno visto precipitare il bimbo e hanno cititofonato a casa per all'estate.